Il portoguero femminile non si nasconde. La presentazione alla stampa delle Granata, ormai pronta per una nuova avventura in Serie D, ha subito svelato un nuovo corso all'insegna delle grandi ambizioni. Dopo tre anni di apprendistato e una promozione sfiorata, il calcio in rosa dal Lemene punta infatti al definitivo salto di qualità, alla promozione in Serie C. La novità principale riguarda la panchina, dove siederà l'allenatore emergente Alessandro Colla, alla sua prima volta nel femminile, dopo 11 anni di ottimi risultati conseguiti nei settori giovanili del territorio. Ho sempre fatto settore giovanile a livello regionale Veneto-Friuli, ora iniziamo questa chiamata da parte del Presidente e questa nuova avventura, molto soddisfatto di essere qua. E' quella prima volta che praticamente a Legna anche una squadra di calcio femminile. Sì, questa è la prima volta, sarà un'esperienza particolare, dura, però sempre un'esperienza che sarà sicuramente un bagaglio da parte mia, importante e spero anche di dar qualcosa dagli obiettivi che siamo posti alla società per far sì che questa squadra possa fare, se è possibile, anche il salto di qualità. Infatti è un progetto ambizioso che è iniziato due o tre anni fa. Quest'anno c'è questa volontà di provare veramente a fare le cose in grande. Sì, c'è la chiamata che ho avuto già a marzo dal Presidente elettrosportivo, c'è questa volontà, sicuramente ci saranno molte difficoltà da affrontare, partiamo sempre con i piedi per terra perché sicuramente non è facile, le ambizioni sono tante sia da parte di città sia da parte mia, ce la proveremo tutto, adesso vedremo anche il campionato come sarà messo, so che qualche squadra non si è iscritta, ci saranno anche delle squadre nuove, siamo soddisfatti e anche se io sono molto soddisfatto del mio lavoro e spero di dar molto per far sì che l'obiettivo si possa raggiungere. Siamo qui all'inizio di una nuova avventura per quanto riguarda il calcio femminile. Dicevamo l'anno scorso a fine campionato che quest'anno doveva essere l'anno appunto del salto di qualità definitivo. Sì, in effetti è vero, l'anno scorso ci siamo lasciati pensando al prossimo anno, un anno decisivo un po' di qualità e di gruppo perché dopo tre anni di esperienza che abbiamo militato in Serie D, riteniamo che sia questo l'anno giusto per poter approdare alla vetta nel senso di essere le prime e giocarci fino a fine. Quest'anno tra l'altro c'è stato il cambio come avete potuto già leggere in giornali tra Moro e Colla che è un mister che avevamo già cercato a suo tempo e ci fa piacere averlo qui con noi, insieme a lui avrà Davide Fontanel mentre confermato Andrea per quanto riguarda il proprietario dei portieri. Noi quest'anno chiaramente abbiamo portato la squadra al gruppo che era già abbastanza compatto l'anno scorso ed è abbastanza anche d'età nel senso, abbiamo tolto qualche pedina vecchia che ormai doveva lasciare il portoguaro e abbiamo mantenuto una fascia diciamo che si aggira intorno ai 2004 e ai 99. Le ragazze penso abbiano l'esperienza giusta per approdare al campionato anche con un po' di maturità in più perché un anno in più le ragazze sono necessarie, adesso iniziano a 16-18 anni per cui un'età anche giusta. Le vediamo che sono ben preparate quest'anno, attente anche già a tutti i messaggi che il può inviarle e riteniamo che sia quello al momento giusto, noi ci crediamo nella ragazza e nel mister, nel lavoro che andrà a fare e le auguriamo al mister un buon proseguimento dal punto di vista calcistico con le ragazze che anche per lui quest'anno è una sfida. Quindi hai parlato di mercato, quali sono i volti nuovi di questo portoguaro? Allora i volti nuovi di quest'anno ne abbiamo diciamo 4, parliamo di un portiere in più che aveva bisogno di una squadra, un portiere in più che aiuterà molto tutta l'Ettroguardia a Portoguaro, una ragazza sempre giovane del 2000 che veniva da Erine di cui già a metà il campionato avevamo avuto dei contatti. Poi questa sera non c'è, qui in campo dovremmo avere una ragazza di esperienza che militava già a suo tempo che è a due anni ferma, si chiama Silvia Berardo e poi abbiamo un centro avanti da Caole, una ragazza che ha terminato l'anno scorso qualche amichevole con noi che ha già giocato con la ragazza che si chiama Alex Caoprea, anche questa militava nel calcetto 5 di Caole che ha fatto un gran successo quest'anno che ha vinto il campionato però si è un po' smembrata e lei si era avvicinata a noi. E poi abbiamo una ragazza di Cesarolo, si chiama Valentina Gallo del 2001, anche questa che ha buone caratteristiche, un terzino mediano diciamo che può dare una mano alla fascia bassa ma sempre d'età come dicevo prima, molto giovane, il 2001 anche questa. Questo è un po' tutto il gruppo delle ragazze che bene o male, salvo qualcun altro, ma queste sono le quattro più importanti, per cui portiere, difesa, centrocampo e la punta. Quest'anno c'è anche la convivenza con il calcio mestre che forse vi costringerà a giocare più di qualche partita all'Oltano Dalmecchia. Sì, confermo. Quest'anno diciamo abbiamo qualche partita nel senso che da calendario mi pare che dovremmo avere la settimana, cioè i mesi soprattutto, ottobre, novembre e dicembre che in cui il mestre gioca di domenica. Però dobbiamo vedere il calendario come si svolgerà alla sera, gioca alle 18.30. Mentre per quanto riguarda già a metà dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il mestre giocherà di sabato per cui il Mecchia sarà a nostra disposizione. Mentre le ultime partite di aprile e maggio diciamo che normalmente verranno giocate alla notturna o di lunedì o di venerdì. Per cui meno male forse salteremo qualche partita ma non di troppo, ma ho fiducia nel calendario. Vediamo un po' poi, diciamo che i nostri cugini vicini di Concordia o altri di Fossalta ci ospitano molto volentieri, questo mi fa piacere insomma.